Io penso che questa campagna possa essere un grande strumento per lottare contro il pregiudizio, un pregiudizio che è presente evidentemente anche dentro il Parlamento e quindi questa campagna potrà essere sicuramente uno strumento positivo per riprendere in mano la legge. Io mi auguro che questo naturalmente, che si ricominci a stabilire quel clima che c'era stato, appunto che anche il Ministro ha sottolineato, c'è un lavoro bipartisan perché questa dovrà essere una legge bipartisan, quindi una legge condivisa da tutti perché è una legge di civiltà. Noi abbiamo già ripresentato la proposta di legge, arriverà la proposta di legge del Governo, ci rimetteremo con la pazienza certosina a lavorare insieme ad approvarla in un altro clima, con un altro clima e con un clima di parlamentari che vogliono il bene di questo Paese. Deideologizzando questa battaglia come era stato fatto per un anno e facendo il bene di questo Paese, che io credo che sia il nostro dovere.